Spero, se non mi ero in data... Io volevo... ...mi erano in giro! AAAAAAAAHHHHHHHHH! Dov'è! Dov'è! Ma mi è uomo! Ho capito! Ho capito! Non lo voglio! UOOO! UOOH! Oh no! No! Che c'è... ...dai... 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 ...novembre... ...dai... 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 come stai? stai un bacio Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì.